E Battieto è stata una figura costante durante tutto il percorso? Sì, è stato veramente un mentore straordinario. C'è una cosa sicuramente che condivido ultimamente spesso perché penso che le cose belle che ricevi dagli altri vadano condivise. Lui un pomeriggio mi disse guarda, avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e un artista libero. Ricordarti ogni giorno di scardinare la tua arte dal fine. Fa sì che il tuo percorso artistico sia semplicemente lo specchio di ciò che sei. Quindi non chiederti cosa posso scrivere per piacere al pubblico per scalare le classifiche. Chiediti semplicemente di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita. Quelle sono le radici del tuo prossimo progetto discografico. Stop!